ciao amici ben ritrovati alla serie di video invito alla scrittura svolto in collaborazione con gold pen oggi parliamo di carandash un marchio che non ha bisogno di presentazioni molto apprezzato ginevra svizzera certamente la qualità di strumenti di scrittura che nel caso di carandash mi sento di dire che per esempio nelle matite esprime la massima potenzialità perché non solo per la qualità del pastello dell'impasto quindi le tonalità ma proprio la qualità complessiva dello strumento ed in particolare ecco perché parto da qui la 849 arriva ad essere finalmente una penna stilografica visto il successo del portamine della sfera carandash ha deciso di rendere stilografica quindi di proporre nella versione stilografica anche questo best seller ovviamente in tutta il suo splendore con il design esagonale ancora una volta è il netto e chiaro richiamo a quello di cui vi ho accennato prima cioè la produzione delle matite ma l'esagono è anche il logo per l'appunto di carandash un logo che troviamo ben riprodotto sulla parte sommitale del cappuccio ben riprodotto perché sono questi particolari che rendono una penna come questa una penna di invito alla scrittura ma non certamente da proprio da primo prezzo perché abbiamo già passato la soglia dei 50 euro per quanto di poco però siamo già in un segmento che si rivolge a chi cerca qualcosina di più chi vuole abbandonare per esempio la plastica in favore del metallo in questo caso un bel alluminio con una finitura veramente realizzata alla regola d'arte e con i piccoli particolari che danno una un particolare anche occhio e attenzione al design come nel caso guardate della clip che anche in questo caso potrebbe apparire come un elemento aggiuntivo rispetto al progetto originario però scusatemi però è una cosa che senza dubbio è utile ed è il caso del motivo per il quale appunto campeggia sul cappuccio nulla toglie che se non avete voglia di portarvela presso e se è nuova senza strisciarla possiate tenere in scrivania anche questo questo pastello il pastello alla fine dei conti perché è esagonale come un pastello longilineo perché vedete che non ha un diametro è un uno sviluppo in senso del diametro molto consistente e quindi è bello anche così proprio un omaggio al design ce lo fa capire anche il fatto che proprio sotto la clip come forse si vedrà meglio nelle fotografie c'è il marchio carandash scritto molto bene e la sigla 849 il cappuccio un cappuccio a pressione eccolo qua si apre si chiude senza nessuna difficoltà l'unità di scrittura e non è invece in metallo e il fusto il cappuccio lo è ma non non l'unità di scrittura un'unità di scrittura che parere più che personale forse meritava qualcosina di più in relazione a quello che è il resto della penna qualcosa di più non perché manchi qualche cosa assolutamente ma perché tanto è bella questa parte del fusto del cappuccio che forse la parte proprio dell'impugnatura che è quella che le nostre dita toccano per la maggior parte del tempo poteva avere un guizzo creativo in più un qualche cosa che potesse allinearla un pochettino alla qualità di tutta la penna però l'importante è che funzioni bene e soprattutto che si accomoda è molto comoda perché si tratta di una resina ben lavorata con una laccatura ben rifinita e quindi è comoda forse appena appena lo spessore che dovendo rientrare nel cappuccio come potete immaginare deve essere per forza più stretto dell'imboccatura e allora potrebbe per le mani di qualcuno che è un po grandi potrebbe risultare un pochettino piccolina perché tra l'altro ha anche uno sviluppo conico che da qui va un po restringersi e potrebbe ripeto risultare un pochettino piccola però sapete sono tutte cose che si pagano in omaggio al design non resta che andare a metterla alla prova non prima di avervi detto che è una penna che al caricamento a cartuccia troviamo la cartuccia di cortesia tra l'altro una un carandash sapete che sono inchiostri veramente molto belli molto validi performanti nel fusto probabilmente non ho misurato vediamo se è vero se ci stanno due il carandash ha un attacco di tipo universale sì ci stanno due ci stanno due cartucce quindi potete avere anche la riserva a pelo pelo ci stanno anche questo è un buon è un buon stratagemma per non rimanere mai a secco d'inchiostro guardate che bella la satinatura il pennino è un pennino medio un pennino che diciamo in pieno stile carandash non 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 si lancia in particolari spettacoli pirotecnici c'è il logo del brand ma nulla di più però un pennino che scrive molto bene è un pennino medio quello della della nostra prova andiamo subito a metterlo al lavoro veramente bello 849 è un bel pennino un pennino medio è un pennino medio rigido assolutamente che fa veramente il paio con la penna quello che vi ho detto prima che forse per qualcuno potrebbe essere una penna un po' stretta in realtà essendo la penna leggera questa impugnatura abbastanza raccolta consente di padroneggiarla con con molto con molto controllo con molta controllo perché vedete posso decidere di scrivere come desidero fare condensato posso scrivere in grande posso scrivere in piccolo anche in piccolissimo è proprio è un pennino da questo punto di vista molto divertente tra l'altro mi sono accorto nelle prove che ho fatto nei giorni scorsi che ha una tendenza anche a rispondere un pochettino a quello che è il la forza impresse diciamo che non si può definire un pennino elastico perché ve l'ho detto un pennino rigido però nel momento in cui devo fare vedete una sottolineatura più forte eccola qua c'è quindi non possiamo definirlo elastico assolutamente però è rigido perché la risposta è una risposta rigida però è sensibile alla pressione entro proprio dei dei limiti è chiaro che non stiamo parlando di una penna stilografica che costa 15 o 20 euro e nemmeno 30 stiamo parlando di un oggetto di design ben realizzato ma soprattutto di una qualità che è percepibile un po da tutte le parti impugnandola nella qualità della finitura nel bilanciamento perché comunque la penna molto leggera anche col cappuccio resta comunque una penna leggera molto bella e il pennino che potrebbe sembrare un po spoglio un po insomma stampato come tanti altri del dei pennini che ho provato in questa serie di video è quello che si comporta meglio è quello che ha qualcosa di più da dire ve lo faccio vedere anche su un altro tipo di carta lo provo sul mio classico quaderno scolastico questa volta con la tramatura e qui essendo una carta meno rifinita è un pochettino più ruvida si riesce anche a mettere al lavoro il pennino dandogli quel minimo di pressione in più per giocare anche con con la variazione vi dicevo dovuta alla pressione che gli diamo insomma delle piccole sfumature che possono anche rendere un po più piacevole la calligrafia invece che renderla monotona calligrafia la rendono un po più viva perché dove vogliamo diamo magari quella pennellata in più e abbiamo magari una firma un po più personale che ci conterà distingue da tanti altri questa è la caran d'asce 849 cd a la chiamiamo così amichevolmente 10 e lode veramente molto bella cari amici vi aspetto ai prossimi video di invito alla scrittura